Ancora l'arresto di un passeur che trasportava quattro migranti in Italia, stavolta al Valico San Pietro, a Gorizia. L'episodio risale al 3 giugno scorso. La polizia di frontiera della città isontina è riuscita a intercettare una macchina guidata da un 39enne del Tajikistan che trasportava tre iracheni e un afgano. La polterra di Gorizia è stata allertata dai colleghi sloveni dopo che il passeur non si era fermato all'alt, intimatogli dagli agenti. La polizia italiana è riuscita a fermare il veicolo in via Vittorio Veneto appena dopo il passaggio del confine. I passeggeri, una volta rifocillati e visitati secondo le procedure anti-covid, hanno dichiarato di essere rimasti per più di due giorni fermi nei boschi tra la Bosnia e la Croazia per poi essere presi in consegna dal passeur Tajiko con destinazione Italia. Al termine delle visite di rito, il 39enne è stato portato in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina gravato. Pochi giorni dopo il rintraccio, il 7 giugno con un'ordinanza, il Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto del passeur disponendone poi la liberazione e la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.